Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Pechino che mi scrive da Pechino in Cina e mi chiede dottore ma mi spiega un attimino la differenza tra i miracoli della mente e la medicina cinese. Perché ho visto un suo video che parlava di medicina cinese, medicina occidentale e quant'altro. Io rispondo a questo signore, questo è stato un video di tanto tempo fa, quasi un anno, ma ti rispondo a te e a questo signore che mi ascoltate. Allora la mente, il nostro subcosciente può realizzare i miracoli della stessa nostra mente, senza se e senza ma. Come succede questo miracolo della mente? Se tu rifletti e leggi tanti libri o fai ricerche scientifiche, noterai che non soltanto i religiosi ma anche i laici, cioè chi non crede a nulla, ha avuto il miracolo della propria mente. Facendo cose che di solito nessuno fa, cambiare vita, cambiare paese, cambiare entourage, cambiare pensieri, è successo. Ok? E questi sono i miracoli della mente, i miracoli della mente. Che succedono ogni santo giorno, anche se noi, o la famosa scienza del metodo scientifico, non riusciamo a spiegarceli con la ragione. E poi se noti anche il famoso metodo scientifico lavora su percentuali, su statistiche, su probabilità. Non esiste mai un cento per cento, tranne i rarissimi casi. Per cui la mente, il tuo subcosciente, l'88% della tua mente, ha un ruolo fondamentale nel risolvere il tuo problema, sia fisico che mentale, sia della tua vita visibile e invisibile. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto fare delle ricerche scientifiche e notare che invece è possibilissimo. Io prima non credevo a certe cose, perché ero, sono e sarò un seguace di San Tommaso, se non vedo, se non tocco, non credo. Bene, e sono stato io il primo che da scettico, diffidente e anche impaurito dell'ipnosi, quando la vedevo in tv o nei film, che si è meravigliato vedendo miracoli nella mia vita, visibile e invisibile, sul mio corpo, nella mia mente, e anche vedendo quando ho replicato gli stessi, se non pure superiori, miracoli della mente sulle persone che ho aiutato in tutti questi anni. Incredibile ma vero. E la cosa che non riesco a capire, tra virgolette, è perché non se ne parli più spesso, perché si nascondano certe cose, perché non tutti sanno, perché c'è una parte di buona fede, diciamo la stragrande maggioranza, ma la famosa minoranza, i famosi poteri forti, non ne parlano, pur sapendo che c'è qualcosa in più di quello che il popolo conosce. Ecco, è in tutto il mondo questa cosa, incredibile ma vero. Cioè il potere della mente è sconosciuto ad oggi, possiamo pure dirlo. Si pensa che siamo macchine, che se non taglio non esiste, e invece non è così, perché qua dentro pochi sanno veramente come gira il mondo, pochissimi. Molti la scambiano per magia, la magia della mente, altri lo scambiano come un potere, il potere della mente, altri come qualcosa di invisibile per cui non esiste. Addirittura nel 1008 la Francia processò Mesmer, Franz Anton Mesmer, questo medico viennese di Vienna che portò in auge l'ipnosi, all'epoca la chiamava mesmerismo, magnetismo animale, convinto ci fosse un fluido, una specie di magia dei pianeti e compagnia bella. E se arrivo in questa commissione istituita dal re Luigi XIV insieme a Beniamino Franklin, ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Francia, si arrivo alla conclusione che era l'immaginazione a fare questi miracoli della mente. Ma poi a me, chiamala suggestione, immaginazione, potere, chiamalo come caspita vuoi, ma a me se tu mi risolvi il problema ti dico grazie, magari un problema è che nessun altro è riuscito a risolvere, sì o no? Il problema è credere in se stessi e soprattutto più che credere fare, fare, fare azione. Quello che in pochissimi fanno, si stracinano nel corso della loro vita pensando che ci sia il fato, il fatalismo, che non si possa fare nulla, nulla. E quindi continuano, continuano ad arrendersi, a non provare qualcosa di nuovo. Se tu sei, fai parte di quella persona su dieci che si è stancata di girare cappelle, mettere la famosa tuta e non trovare mai soluzione, bene, puoi scaricarti un audio mp3 dcs che può fare per te oppure per il tuo caro, seguire la lettera e le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro e meravigliarti del potere della tua mente, senza se e senza ma. Facendo parlare i fatti e non i bla 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 bla, perché nel mondo ci sono tanti bla 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 bla. Una volta si andò quando mia figlia aveva quattro anni da un luminare e mia figlia a quattro anni quando uscimmo su una problematica disse papà ma sembrava una lezione di scuola, cioè soluzioni zero, ti spiegano le cause, perché, per come, per quando, ma poi zero zero zero, per cui se tu sei stanca, sei stanco delle palestre, di ciò che non ti può dare una soluzione, della famosa tuta, di girare cappelle, perché comunque non hai e non trovi soluzione al tuo problema oppure al tuo desiderio, prova il potere della tua mente, anche a prescindere dal sottoscritto che, peraltro, ho sospeso le sessioni online di Primo si dicesse vera e professionale con la B maiuscola per problemi di tempo e di impegno, ma anche se tu non vuoi scaricarti uno degli audio mp3 dicesse molto potenti e naturali unici al mondo, puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi della tua zona, anche se non utilizzi il metodo dcs del dottor Claudio Saracino, l'importante è che questo professionista abbia già affrontato casi come il tuo, come lo fa sapere, chi domanda comanda, ok? Per cui solo a te la scelta, ma ti posso garantire che sei il professionista già affrontato casi come il tuo, tu puoi ottenere dei benefici incredibili. A te soltanto la scelta, amica mia, amica mia. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, perché la mia mission è quella di diffondere il mio metodo dicesse, non è quella di vendere, perché grazie a Dio, grazie al mio subcosciente, grazie all'ipnosi dicesse vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo, sto bene per le prossime 37 vite, non lo dico per vantarmi, ma per ispirarti, partito da studente e lavoratore senza una lira in tasca tanti e tantissimi anni fa, vicino a Milano, in quel di Modena, ti posso garantire che non esiste tecnica, arte e scienza più potente dell'ipnosi dicesse vera e professionale della V maiuscola unica al mondo. Puoi documentarti anche su riviste scientifiche internazionali come Lancet, Life e vedere quanti casi nel mondo tra ipnosi e casi impossibili e possibili sono stati affrontati con l'ipnosi vera e professionale. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di cesto del dottor Claudio Saracino e special condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi gentilmente anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di cesto del dottor Claudio Saracino, un bacio e un abbraccio amico a mia, amica mia e alla prossima dal dottor Claudio Saracino, ciao! Grazie a tutti!